Collezione Primavera Standa, per la donna prevale la seta pura a motivi floreali, una donna semplice, classica, elegante. Per l'uomo l'abito è intero, in fura lana vergine e l'impergnabile ovviamente di taglio inglese. Per i bambini un romantico nei colori pastello, collezione Primavera Standa, si spende poco e si ritorna al classico. Standa, la casa degli italiani.